siamo sempre più nella merda siamo sempre più in mezzo alla merda ci ritroviamo e tutto per colpa di sto incompetente di allenatore e sta dirigenza incapace rastelli ha ragione dovete dare le dimissioni in massa tutti quanti a cominciare dall'allenatore boba nemaldini primi due dirigenti che devono prendere e togliersi dalle scatole avete capito voi due boba nemaldini dovete levarvi dalle scatole tutti e due non ne possiamo più di voi almeno io non ne posso più di voi due soprattutto non ne posso più di te giampaolo non ne posso più di te hai fatto giocare per l'ennesima volta a suso e c'ha la noglu invece che rebic ci siamo fatti dominare dalla fiorentina 90 minuti l'unico che salvo è leao che se l'è meritato il gol un gol di consolazione inutile su azione grande anche donna ruma che ha parato il rigore grandissimo donna ti voglio bene siete una squadra di incapaci di senza palle una società che non capisce niente di pallone oggi voglio le dimissioni in massa prima di tutto l'esonero di giampaolo voglio lo voglio adesso voglio l'esonero di questo allenatore ma subito immediatamente basta non ne posso più di lui sei partite quattro sconfitte e sei punti sei punti sei partite ma vi rendete conto vi rendete conto sei punti in sei partite abbiamo fatto porca miseria quest'anno rischiamo la serie b per colpa vostra e se ieri la curva sud se ieri la curva sud ha completamente svuotato il settore ve lo siete meritati se ha esposto lo striscione non ci meritate ve lo siete meritati ve lo siete meritati perché siete un una cozzaglia di gente che non ha un minimo di competenza nel calcio anche tu gaziris che ci fai ancora lì che ci fai ancora lì se trovo che ha avuto la brillante idea di ingaggiare questo allenatore incompetente lo leggo e lo butto nel naviglio così come sta lo leggo e lo butto nel naviglio ma vengo proprio da trieste fino a milano lo leggo lo impacchetto e lo getto nel naviglio basta non se ne può più di voi avete rovinato una squadra voi volete la serie b questa è la verità voi volete la serie b voi volete la serie b noi tifosi non ci meritiamo tutto questo e voi non ci meritate a noi avete capito pezzi di infami non ci meritate come noi non vi meritiamo noi non ci meritiamo tutto questo soprattutto io voi non vi meritate a me soprattutto soprattutto non vi meritate a me infami delle mie palle non vi meritate a me avete capito squadra e società di incapaci che non siete altro basta cacciatevi a sto allenatore e dimettetevi tutti basta non ne salvo uno lì dentro